Ok, parte 2, dobbiamo installare RenderDoc, RenderDoc dobbiamo andare su sito, quindi abbiamo il primo link che troviamo cercando RenderDoc, poi io suggerisco di scaricare l'ultima stabile portabile zip, quindi si scarica questa versione e la versione che c'è dentro io la metto di solito in una cartella dove metto Blender e tutte le varie cose esattamente come faccio con Blender, adesso in realtà l'ho già fatto lo scaricamento, quindi RenderDoc 1.19 che è l'ultima versione del 31 marzo 2022, quindi lancio RenderDoc, quindi faccio RenderDoc.exe che sarebbe QRenderDoc che si è installato sotto la versione 1.19.64, ok, quindi a questo punto quando lancio questa applicazione mi compare questa finestra che vedete qua, questa finestra che è una finestra che ci permette di fare un'iniezione di dati, se non vedete questo inject into process che è la parte che interessa a noi, dovete andare in tools, settings e da qua accertarvi che ci sia il pallino nero dentro enable process injection, altrimenti non potete fare l'operazione successiva. A questo punto nasce una piccola cosa, nel senso che noi dobbiamo prendere la nostra icona di Google Chrome, quindi prendiamo la finestra qua e vedete che Google Chrome di solito ha un, se voi fate il tasto destro di Google Chrome, questo, fate il tasto destro e poi ci sono le proprietà e qui c'è un campo destinazione e c'è un campo cprogram files eccetera eccetera che è quello che lancia. Questa cosa qua voi dovete fare una copia, quindi creare da questa praticamente una copia del campo, adesso qui con, ecco qui praticamente bisogna fare una copia soltanto di questo signore qua, si può anche fare un'invia a desktop, quindi questo crea collegamento, questo qui crea praticamente un'altra copia nel collegamento e poi in questa copia di collegamento dobbiamo fare in modo tale da metterci dentro una, nelle proprietà praticamente quello che è scritto qua, questa destinazione, quindi dice, c'è questa stritta qua, che praticamente vi scrivo qua, vedete che c'è questa riga qua, ecco questa riga qua deve essere messa praticamente al posto del, del da, no, della destinazione qua sopra. Se fate così vuol dire che questo link, una volta che avete salvato e fate ok, praticamente cambia, non compare più come Google, come Google è tutto colorato, ma rimane bianco perché vuol dire che sta lanciando un collegamento. A questo punto quello che bisogna fare, intanto accertatevi di aver, di uscire con tutte le cose, di tutte le finestre di Google che avete, quindi usciamo, e poi lanciate il collegamento questo che avete taroccato, cioè taroccato, praticamente è stato aggiunto praticamente un'informativa che praticamente vi dice qual è il PID associato alla GPU. Perché questo è importante? Perché a questo punto, 3928, andate dentro il vostro Capture, Qualified Inject, e qua mettete praticamente quel numero, 3928, dovete fare un refresh, fate 3928, vedete che avete Google Chrome GPU, fate doppio clic e avete iniettato praticamente questa cosa. Una volta che avete messo questa informazione, fate ok qua sopra, lasciate partire Google, quindi vedete che è partito, e se tutto è andato bene, qua intanto è diventato tutto nero, queste parti qua, Capture Frames Immediately, Capture After Delay, Capture Specific Frames, e qua soprattutto sono comparsi in cima, praticamente questa serie di informative, ok? Allora, adesso la tecnica consiste nel andare di nuovo nel, quindi fate CTRL H, e vi muovete praticamente andando, praticamente nel borgo medievale dove eravate prima, quindi fate, qui togliete questo, vedete che siamo nel, nel borgo, ma siamo praticamente ci mettiamo di nuovo tutto a schermo intero, togliamo questo, facciamo di nuovo il giro perché se l'è perso, facciamo visualizzazione globo, e, ok, visualizzazione globo, e andiate in rilievo, 3D, andate di nuovo a prendere la scena che vi interessa, premendo il cursore, quindi prendete la scena, in modo tale da avere tutta la parte che vi interessa, e a questo punto dovete prendere, appunto, una foto 3D di questa cosa qua, come si fa a fare la foto 3D? bisogna andare dentro il nostro render doc, che a questo punto è agganciato a Chrome gli si dice di, gli si dà un ritardo di due secondi, due secondi, qua, Capture After Delay perché? Perché quando si fa il Capture After Delay, dopo due secondi bisogna, in realtà, fare in modo tale che, quando lui fa la cattura, si muove un pochino lo schermo, cioè il mouse, quindi si fa Capture After Delay, si clicca, e si muove un pochino il mouse, no? ok, facendo così, comunque lui, sono passati due secondi quindi dovrebbe aver preso la foto la foto, come vedete, sono 45 MB la foto viene meglio se si muove un pochino il mouse un piccolo trucco voodoo, ma sembra che funzioni dopodiché dovete semplicemente fare il tasto destro e salvare questa foto praticamente dentro il documento, ad esempio, in un posto che la trovate e gli date un nome, borgo trattino medievale e viene salvato come un Capture File .rdc salva a questo punto, voi avete salvato la vostra immagine 3D quindi nel prossimo video vedremo come prendere questo .rdc e metterlo dentro Blender 3.1 .rdc 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 .